È uno di quei rari esempi in cui la grandezza artistica coincide con quella umana e non si è mai accodato a nessuna linea, a nessuna moda e aveva ragione sempre. Mi ricordo per esempio un momento in cui abbiamo finito un lavoro e alla fine dell'ascolto eravamo tutti e due talmente commossi, talmente coinvolti in questa cosa che non siamo riusciti a dirci niente e abbiamo chiuso il conflitto e siamo andati a dormire.